Si è aperto ieri il sipario sulla terza edizione di Licata tra vele e sapori. La manifestazione, fortemente voluta dall'amministrazione, presieduta dal sindaco di Licata Angelo Cambiano, si colloca nell'ambito dell'attività mirata alla promozione del territorio e alla destagionalizzazione delle presenze turistiche ed è stata realizzata anche e soprattutto grazie al supporto delle aziende private. Fino a domenica 13 settembre un programma fitto di appuntamenti, barche e 25 equipaggi alle prese con le regate, ma anche una fiera enogastronomica e dell'artigianato, visite guidate in alcuni siti del centro storico e ancora sfilate e spettacoli con la partecipazione dei gruppi folcloristici della città. Stasera è inoltre grande attesa per il concerto dei Tinturia che faranno ballare il pubblico di Piazza Progresso a partire dalle 22.30. È un evento, è un contenitore che ha l'obiettivo di in qualche modo muovere la città, avere una ricaduta sul territorio in termini economici perché prevediamo un giro di migliaia di persone durante tutta la manifestazione che dura come sapete tre giorni dall'11 al 13, quindi ci sono tante attività e anche il trattamento quest'anno di un tema sociale che è quello dell'integrazione. È un contenitore come dicevo che contiene oltre alla regata che quest'anno appunto tratta il tema dell'integrazione perché su ogni barca da regata abbiamo messo un ragazzo migrante, quindi abbiamo dato la possibilità a questi ragazzi che sono nelle case alloggio di partecipare intanto a un corso di vela preparatorio e quindi far vivere loro il mare, dare a loro il messaggio che il mare non è solo terrore come l'hanno visto.